Giuliana Prospero era una donna sola, non aveva nessuno, i suoi genitori morirono all'unisono, non ne lasciarono niente, aveva però un figlio a sé, ma non lo vedeva mai, avendolo affidato ad una donna, che almeno una casa ce l'aveva, si offriva di fare le pulizie, nei palazzi, nei condomini, ma niente, ma niente di niente, era arrivata al punto, che stava morendo di fame, l'unica soluzione, era rubare, cominciò con piccole cose, nei supermercati, quel tanto che le bastava, per mangiare, non provando rimorso, anzi sentendosi giustificata, dalla sua condizione, di estrema povertà, da questa condizione, cominciò a rapinare la gente, minacciandoli con una mano nella tasca, ne dicogli, ho la borsa, ho la la gente parlava, della labbra parmona! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!